La prima operazione da eseguire per l'installazione di un contosoffitto è quello di installare una guida perimetrale. Per fare questo prendiamo le misure, segniamo il perimetro del nostro contosoffitto e attraverso strumenti semplicissimi come un trapano, un martello e degli stop fissiamo la guida a soffitto che sarà una delle basi portanti della nostra realizzazione. Grazie a tutti.